Sono sempre davanti affinché il nome di Giuseppe Lerobalumbo e di altre vittime innocenti non venga dimenticato e che la loro morte non resti in vana. E' bello oggi ridere qui perché tutte le vittime innocenti sono vite, sono in mezzo a noi. Vi ringrazio tantissimo per la partecipazione e che la legalità sia dentro di un numero di voi e sia una cosa quotidiana e la legalità è una cosa che dentro di noi dobbiamo insegnare soprattutto a questi bambini che sono il nostro futuro e il nostro presente che da ora devono iniziare a seminare per accogliere tutti in futuro. Grazie di cuore.